Ma prima dicevo nei confronti dei giovani, ma era proprio necessario andare a prendere un terzino in Uruguay? In primavera ce n'è uno più bravo di lui di sicuro. Vabbè, ma anche dal Barcellona, ma è uno straniero anche lui. Qui dai lassi statiziano. Ma sì, ma non c'era un giocatore in Italia, un giovane che può giocare come l'ha visto adesso. Ha preso in prestito. Beh, ma prestito no, poteva stare dove era, no? Ti fai gli affari tuoi, se loro lo vogliono, ma è un problema loro. C'è una striscia nera azzurra che a tutti i stranieri te la prendi con la Juventus che è data a prendere. Un giocatore in prestito, di esperienza, giovane, di prospettiva. Ma tanto avrebbe giocato Grieger al suo posto. Ma te la lascio stare molto volentieri. In questo momento stiamo parlando di questo Caceres. Gioca lì Caceres perché non ci sono né Grieger né Zeminano nel suo ruolo. Chi è il terzino destro del Frosinone? E che ne so? Non lo so, chi sia, perché è più forte di questo. E tu? Comprano per la tua squadra? È più forte di questo. Ma chi l'ha detto? Non sai neanche chi è il terzino del Frosinone. Non lo so, non lo so. La Juve ha fatto una scelta diversa. Fai il dirigente, scusate. Sono sicuro che è più bravo di questo Caceres. Ma Serrano sta dicendo, tu pensa cosa è stato detto. Non so chi è il terzino del Frosinone più forte di questo. Però presumo... Cioè, fa l'opinionista. Sì, sì, faccio l'opinionista. È quello che sa la formazione dell'Uruguay del 1954. Io presumo che il terzino destro del Frosinone... Ma che cosa presume che non lo conosci? Come fai a presumere? Conosci il significato del verbo presumere? No, vengo a impararlo da te. Presumo che il terzino destro del Frosinone sia più forte di questo signor Caceres. Prendila per la tua inter. Sono quelli che fanno l'opinionista, il terzino del Frosinone. Aspetta, chi è il terzino del Frosinone? Boh, adesso ce lo mandano. Allora, scusate, ma c'è un sms meraviglioso. Leggi. Ciao a tutti, scusate, sono il terzino del Frosinone. Grazie dei complimenti. Siete grandi, Benito. Ecco, hai capito? Il terzino del Frosinone ci ha scritto. Come si chiama? Benito. 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 Canta una canzone, Benito. 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 Il tentativo di Amaury. Palla che resta lì. Caceres. Rorato di Caceres. Caceres. Eccolo qua. Facciolo vedere. Un pentacerno un fuma iscritto. Un figlionista. Un pentacerno un fuma iscritto. Un pentacerno un fuma iscritto. Un pentacerno. Opinionista. Anche il terzino del Frosinone avrebbe fatto questo buono.